Ma qual è il mindset necessario per diventare ricchi e cambiare completamente la propria vita? Lo andiamo a vedere in questo video e in particolare andiamo a spiegare esattamente come devi pensare, come devi vedere le cose e come devi cambiare completamente la tua mentalità. E benvenuti gladiatori Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo incredibile video sul mindset che è fondamentale per qualsiasi tipo di imprenditore ma anche per chi vuole diventarlo o chi vuole semplicemente stravolgere la propria vita in maniera positiva. Quindi ragazzi il mindset è alla base di tantissime storie di successo, non solo italiane ovviamente ma mondiali, anzi quelle mondiali specialmente quelle americane sono veramente incredibili e ne andremo a vedere qualcuna durante questo video. Ma prima di tutto un bel mi piace, metti un bel pollicione sotto questo video per caricare l'algoritmo di YouTube al massimo e ricordati di iscriverti al canale proprio qui sotto questo video per rimanere aggiornato o aggiornata sui prossimi video che usciranno attivando la campanellina delle notifiche proprio qui sotto. Quindi iscriviti, mi piace e campanellina. Detto questo ragazzi partiamo a bomba con il video. Mindset, per chi non lo sapesse, Mindset è semplicemente la mentalità di cui hai assolutamente bisogno per svoltare e cambiare la tua vita. Ora, molte persone credono che questa sia tipo una favola, che non funzioni, che non esiste, che non si possa toccare, però in verità è qualcosa di molto molto reale, molto, se vogliamo, fisico. Diciamo che è un po' come curare il proprio cervello, va bene? Il proprio modo di pensare, di vedere le cose. Ora, tantissime persone credono che non sia possibile poter cambiare la propria vita, poter guadagnare più di 2000 euro al mese, poter guadagnare anzi centinaia di migliaia di euro al mese, se non milioni. È possibile ragazzi, ovviamente, non è facile, ma il primo step che hai bisogno per cambiare il tuo mindset, quindi il tuo modo di vedere cose, è prima cosa in assoluto capire che non ci sono limiti, soprattutto per quanto riguarda il guadagno tramite business online, quindi guadagnare online, in quanto, ragazzi, vi ricordo che non ha limiti non perché lo dico io, ma semplicemente perché puoi vendere qualsiasi tipo di oggetto a qualsiasi tipo di persona, a qualsiasi lingua, in qualsiasi lingua, in qualsiasi tipo, a qualsiasi paese del mondo, ok? Specialmente, ovviamente, con l'e-commerce, ok? E-commerce, social media marketing, andiamo a combinare quindi le due forze principali per vendere i nostri prodotti fisici, in dropshipping oppure in private label. Ho fatto un esempio, ma in generale il business online fonda i suoi pilastri proprio su questi argomenti. Ora, la cosa importante da capire quindi, che ovviamente non è che qualsiasi business online fattura e genera milioni, miliardi, ma è possibile semplicemente per un fatto fisico, un fatto reale, ovvero che puoi vendere a più persone nel mondo, anche dormendo, quindi mentre tu dormi una persona alle 5 di notte può comprare da te nel tuo negozio online un prodotto e tu quindi guadagni, quindi anche se vogliamo, tra virgolette, passiva, anche se ovviamente non è un vero passive income, perché tu comunque devi lavorare per raggiungere quell'obiettivo, ovvero guadagnare anche mentre dormi, ma prima devi lavorare tanto, ok? Quindi non è passivo, anche perché bisogna sempre aggiornarsi, aggiornare il sito, aggiornare le inserzioni, quindi di passivo ragazzi in questa vita c'è poco o nulla, mettetelo bene in testa, anzi questo è un altro tassello fondamentale del nostro video sul mindset, ovvero che non aspettatevi la pappa pronta, non esiste quella cosa come stile posto fisso nella vita reale, anzi la vita reale di adesso ragazzi non so se ve ne siete accorti, molto più orientata verso il posto fisso, se non è morto morirà adesso fra qualche tempo, quindi semplicemente perché l'economia non funziona più così, quindi rimettetelo bene in testa, ragazzi avete, secondo me non avete più scelta, avete qualche altro anno, ma per chi volesse continuare a lavorare normalmente, ovviamente i lavori più o meno da 1000-1500-2000 euro al mese più o meno ci saranno, ma andranno a cambiare, come per esempio adesso, avete visto quante agenzie di social media marketing, quanti nuovi negozi e-commerce stanno nascendo, crescono in fatturato, eccetera eccetera, perché è quello, ok, è quello l'indirizzo, è quella la direzione dove si sta spostando il mondo, ok, se vogliamo, adesso vi faccio esempio di e-commerce, perché è la mia materia, ma principalmente, se voi date un'occhiata generale al mondo lì fuori, sta cambiando veramente tanto rispetto a qualche anno fa, e ogni anno cambierà sempre più velocemente, in maniera sempre più radicale, quindi dovete assolutamente implementare questa regola dentro il vostro cervello, quindi implementare il vostro mindset, la vostra mentalità, perché ragazzi è in continuo cambiamento tutto, non potete assolutamente rimanere lì e rimanere fermi, dovete sempre muovervi, imparare, capire, spostare quella cosa, modificare quella caratteristica del business, Ora, altra cosa fondamentale, è quella di capire esattamente come, quando e perché bisogna iniziare a guadagnare, e soprattutto dove, quando e perché. Ora, una cosa che molti non hanno capito, è che bisogna sfruttare i trend, esempio pratico il dropshipping, che essenzialmente, prima quando è esploso, quando è nato, era un trend, tra virgolette, nuovo, quindi sicuramente, se tu sei l'unica persona, che vende un determinato prodotto, sicuramente avrà il vantaggio di essere il primo, è sempre meglio essere i primi che i migliori, tuttavia, ormai ragazzi, i business online, quelli che sono più famosi, tra virgolette, sono famosi, proprio perché, il guadagno complessivo, ragazzi, questa è un'altra regola del mindset, il guadagno complessivo, si va sempre ad aumentare, quindi non c'è scarsiti, ma c'è sempre un aumento, ora, perché certi guadagnano, certi no, anzi, perché la maggior parte non guadagnano, e una minor parte riesce a guadagnare, con il dropshipping, il e-commerce, in generale, con il business online, perché, semplicemente, rimane lì, non si arrende, e continua a capire, che cosa non funziona, nel proprio business, e che cosa va migliorato, potenziato, e, implementato, nel ecosistema generale, ovvero, le persone, cosa vogliono in quel momento, cosa, di cosa hanno bisogno, di cosa, veramente sentono una necessità, come possiamo risolvergli un problema, quindi, sempre focalizzarsi, su quello che il mercato chiede, e non quello che pensiamo noi, quindi facciamo un'analisi di mercato, non sentiamo, non ascoltiamo il nostro eco, ah, io penso che, il mio amico, mia madre, mia nonna, mi ha detto che, il prossimo anno, le nuove ciabatte aerodinamiche, no, non significa assolutamente nulla, dobbiamo utilizzare dei dati fatti, ok, dei dati reali, che sono concreti, quindi un'analisi di mercato, che non ci lascia, non ci lascia veramente scelta, dobbiamo farlo, perché sappiamo già, che quel prodotto, quel trend, funzionerà, e quindi andremo a guadagnarci sopra, ok, ricordiamoci ragazzi, che, dobbiamo guadagnare sempre di più, per noi stessi, e di conseguenza, per le nostre famiglie, i nostri cari, questo non è assolutamente, un'altra regola del mindset, non, il denaro, non è il diavolo, non è cattivo, anzi, guadagnando sempre più denaro, noi possiamo realizzare, cose più grandi, e aumentare la positività, non solo nostra, interna, quindi aiutare noi stessi, anche dal punto di vista, ovviamente, dello stile di vita, della salute, quindi possiamo permetterci, di mangiare in maniera, più salutare, di semplicemente curarci, dai migliori medici, eccetera, eccetera, ovviamente, ma lo possiamo fare anche per, la nostra famiglia, i nostri cari, amici, quello che vogliamo ragazzi, quindi, c'è solo positività, nel guadagnare di più, non c'è negatività, come magari vogliono farti credere, o ti inducono a credere, nella società di oggi, ma anche genitori, parenti, amici, cioè, la maggior parte delle persone, non capisce questo, perché ha un mindset sbagliato, che li porterà a rimanere poveri per sempre, e questo non deve accadere assolutamente a te, devi renderti conto di quello che puoi fare, che praticamente è infinito, soprattutto per quanto riguarda il business online, basta un computer, una connessione internet, un laptop, uno smartphone, e puoi guadagnare, veramente, da qualsiasi parte del mondo, senza capi, senza boss, non devi per forza andare al lavoro, prendere la metro, che odi, o stare ore, con la macchina nel traffico, scriviti i tuoi obiettivi, mettiteli in testa, scrivetevi sul computer, sul cellulare, sul foglio, lo attacchi al muro, ok, scriviti esattamente dove vorrai essere, fra qualche anno, cosa vorrai avere, cosa vorrai fare, dove vorrai essere, tutto, per filo e per segno, te lo scrivi, perché quello sarà il tuo, veramente la tua bibbia, il tuo libro, la tua storia, ok, tu sei il protagonista del tuo film, ok, del tuo libro, esisti tu, esisti solo tu nel tuo mondo, devi crearti il tuo mondo, è possibile, tutte queste cose ragazzi, non sono cavolate, sono veramente metodi, step by step, per ricostruire, la propria mente, grazie ad un mindset vincente, non esiste negatività, non esiste scarsi, non esiste, guadagnare, fa male, la salute, cose del genere, sono tutte cavolate, ok, sempre positivi, sempre innovativi, e non si molla, assolutamente niente, se avete un problema, lo risolvete, andate avanti, se ci sono inconvenienti, non ce ne frega nulla, andiamo avanti, e facciamo così, per sempre, non molliamo nulla, continuiamo, ad andare avanti, step by step, passo dopo passo, continuiamo a migliorare, per raggiungere i nostri obiettivi, e riusciremo finalmente, a raggiungere la libertà finanziaria, che tanto ti meriti, tutti si meritano la libertà finanziaria, non devi essere costretto a fare, un lavoro che non ti piace, a vivere una vita che non vuoi, con delle persone che odi magari, quindi, ragazzi, io spero che questo video, vi sia proprio entrato dentro, vi abbia fatto capire tanto, per qualsiasi tipo di domanda, se hai una domanda specifica, riguardante il mindset, in generale, su come guadagnare online, me la fai qui sotto, questo video, e andrò a risponderti personalmente, a qualsiasi tipo di domanda, ora, iscriviti al canale, se ancora non l'hai fatto, proprio qui sotto, e attiva la campanellina delle notifiche, e metti un bel mi piace, ma soprattutto, devi vederti assolutamente, il prossimo video, che ti metto qui, alla mia sinistra, quindi, non perdere più altro tempo, il tempo è letteralmente denaro, ci vediamo, al prossimo video. Ciao a tutti,